luk 43 16 ciao a tutti ragazzi sono luk e benvenuti in questo nuovo episodio di factorio il gioco da voi piaciuto e scoperto da me quit scavando tra vari giochi strani su youtube su in giro ragazzi è successo una patatrack un patatrack nel senso che quelli lì di factorio hanno visualizzato i miei video non so come essendo anche l'unico in italia uno degli unici in italia ci hanno contattato a me quit 108 e ci hanno dato a parte i complimenti per i video ci hanno dato delle key a me quit della versione alfa nel senso il gioco completo perché come voi sappiate quello che stavo giocando io ho fatto appunto solo tre video perché dopo l'ultima missione era finito il gioco era una beta era una lo so ragazzi non sembra strano beta e alfa ma loro le chiamano così la demo era beta mentre questo qua che deve uscire è l'alfa e che succedeva succedeva che appunto era una demo e finiva il gioco e diceva di attendere a metà marzo che uscisse il... a metà marzo appunto esce il gioco ufficiale alfa noi l'abbiamo già in anteprima però è appunto una beta test è un alfa testing nel senso che le key che abbiamo io e quit a metà marzo ci si bloccano ci si bloccano e poi ci daranno loro il gioco originale perché appunto sono testing e sono alfa diciamo che hanno pochissimi americani giusto per testare questo gioco e far vedere se piace o non piace e soprattutto aiutarli aiutarli perché loro hanno bisogno di fondi fondi per portare avanti questo... per portare avanti lo sviluppo di questo gioco vi metto il link in descrizione per chi è interessato a donare non so qualcosa o comunque sia a dare una mano una contribuzione io metto il link in descrizione poi a vostro buon cuore io non ci guadagno nulla ragazzi l'unica cosa che ci ho guadagnato è appunto questa key sia io che quit e in più e in più ci hanno dato altre 10 key a me quit che ora stiamo decidendo appunto io e Edoardo se fare un contest se regalarle random vediamo cosa fare ragazzi purtroppo ce ne andate solo 10 e voi siete in tantissimi comunque sia qualcosa faremo e anche le key che daremo appunto sono alfa testing per cui a metà marzo si bloccano bene ragazzi cominciamo subito vedete che comunque sia è già cambiato nel senso che se io faccio il gioco a confronto del demo c'è comincia campagna, nuovo gioco, mondo personalizzato eccetera se io faccio mondo personalizzato ci avventuriamo in un mondo tutto nostro possiamo fare tutto ciò che vogliamo senza livelli eccetera invece io preferisco fare la campagna per mostrarvi e soprattutto per rimparare io stesso i livelli successivi ragazzi allora facciamo comincia campagna e logicamente cominciamo dall'inizio i primi livelli li abbiamo già fatti ragazzi passiamo direttamente al terzo gioca facciamo avanti se vi ricordate eravamo arrivati qua ragazzi io mi porto avanti perchè ho fatto un patatrack e ci vediamo tra poco ok ragazzi siamo a 48 ho fatto tutti i miei macchinari sto raccogliendo il carbone perchè vi faccio vedere ho messo un po' di torrette ho messo 5 queste cose qua e qui ho fatto 4 bei motori solo che sto sclerando con il carbone ragazzi cacchio l'ho messo il carbone e un'altra cosa volevo dirvi è veramente ragazzi ho sclerato per arrivare a 48 di 50 e ho capito che i nemici vedete quanto i morti attaccano anche questi tipi di tubi cioè ci rompono tutto ciò che a noi serve per poter far andare i nostri motori non so per quale motivo intanto ogni motore che aggiungiamo qua di fianco sulla destra vedete electricity e elettricità vedete che adesso è scesa 3 invece prima la 4 perchè finisce il carbone più tubi mettiamo più motori mettiamo più aumenta l'elettricità comunque mancano l'ultimo due giri per cui ok questo adesso dovrebbe finire questo dovrebbe finire dovremmo aver fatto 49 e 50 i rottami di una piccola nave sono stati localizzati a sud est voilà ragazzi ce l'abbiamo fatta a fare questa missione ora vediamo che succede perfetto è tempo di andare ad esplorare l'area dell'impatto ole vittoria ragazzi 37 minuti ci ho messo guardate non stavo scherzando che ho sclerato ho ucciso 118 rettili e salva il gioco che cazzè salva finisci congratulazione è finita la campagna demo se ti è piaciuto il gioco puoi supportare la nostra campagna di raccolta fondi presso www.com come? ah ragazzi forse perché scusatemi scusatemi a primi passi new hope gioca ah ma forse forse era questo qua ragazzi lasciamo facile livello 1 ok ho sbagliato io ragazzi tutto sto casino ma dovremmo ricominciare tutto da capo non stai ricercando niente e infatti il gioco è in inglese ragazzi l'alfa è in inglese e da qui io non capisco più nucazza per cui non posso dirvi che cavolo devo fare lo scoprirò get for computer time eeeh computer time computer c'è qualcosa che si chiama computer ragazzi ricerca 2 non lo so lo scoprirò comunque sia ragazzi vi ho fatto vedere la fine della demo ora questo qua dovrebbe essere veramente il gioco ufficiale ancora non l'hanno infatti vedete che ancora non l'hanno aggiornato in italiano speriamo che lo mettono in italiano comunque sia ci proveremo anche in inglese pollici in su se volete vedere il continuo o come andrà a finire vedete laboratorio ricerca 1 ricerca 2 ragazzi guardate quante cose in più ci sono adesso eeeh voilà devo andare a sud est a sud est sud est nord sud herst dovrei andare di qua ragazzi ripeto pollici in su se volete la continua di questi questa serie comunque sia ho letto un bel po' di commenti look minecraft minecraft ragazzi io lo ripeto per un anno e mezzo ve lo ripeto non abbandonerò mai minecraft ma se ho voglia di fare altri giochi li faccio e come da Luke è tutto ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.